Mi chiamo Valentina Garromagno, sono laureata in medicina e chirurgia, sono specializzata in dermatologia e veneriologia. Mi occupo appunto di patologie della cute, ma anche degli annessi cutanei, quindi tutto ciò che riguarda capelli, unghie e anche della parte più estetica. Questo periodo dell'anno è quello in cui cominciamo ad esporci prevalentemente al sole, quindi ovviamente è il momento più giusto per chiederci che cosa dobbiamo fare per prevenire una scorretta esposizione solare. Il centro ECA dà l'opportunità di avere a disposizione una vasta gamma di specialisti per affrontare problemi dermatologici e non solo.